Siamo arrivati al termine di questa tua gara, la posso definire così. Che sensazione hai avuto? Questa ottava camicia è sudata anche questa allora? Ottava camicia è sudata, c'è soddisfazione. Mia gara, la gara di tutti perché abbiamo appunto scelto voi per rendere la gara di tutti. Quindi spero che chi ha potuto vederla dalla televisione l'anno prossimo possa venire dal vivo a vederla. E ringraziamento particolare nuovamente al ministro Locatelli, Costantino Faeda, Moreno Volpi, quindi organi regionali, il nostro delegato provinciale Mattia Riva e tutti gli organi nazionali a cui ho rotto tanto le scatole ma alla fine diciamo che siamo riusciti a organizzare la manifestazione e va bene così.